San Domenico Maggiore Dall'invenzione del personaggio nei libri più antichi della Bibbia al demonio dai tratti umani del paradiso perduto di John Milton, la figura di Satana viene esplorata nelle caratteristiche mutevoli nel tempo, nella variegata iconografia, nell'ambigua persistenza nella cultura contemporanea. Satana è presente nella Bibbia, dialoga con il Dio, per esempio nel libro di Giobbe, Satana prende l'autorizzazione da Dio a tentare Giobbe. È sicuramente un tema straordinario, straordinario perché ha mille aspetti, cioè il Satana tentatore, il Satana distruttore, ma come nel mio caso il Satana salvatore. Nel Maestro Margherita di Bulgaco, questo Voland, che è il personaggio satanico, è in fondo un personaggio che salva invece che condanna. È un personaggio del male, ma come dice l'epigrafe tratta da Goethe, io sono colui che vuole il male ma opera il bene. Il convegno, in una sala del refettorio Strapiena, è stato ideato e organizzato da un gruppo di giovani ricercatori col sostegno del Comune di Napoli. Siamo un gruppo di giovani ricercatori che hanno una base qui a Napoli dove abbiamo sviluppato questo convegno e è il secondo di una serie che continuerà. In realtà siamo però afferenti a varie università e a varie facoltà, nel caso specifico c'è Napoli Orientale, Roma Torvergata, Foggia e i Campus. Abbiamo scelto di sviluppare questo tema quest'anno, dopo il successo che abbiamo avuto lo scorso anno, perché ci sembrava la figura di Satana o quella del demonio una figura chiave per capire il reale, per capire la contemporaneità. Il Comune è il nostro partner già dall'anno scorso, ci mette a disposizione questa bellissima sala che mai come quest'anno è in tono con i discorsi che usciranno dai relatori. Il convegno, che si concluderà con un focus sul patto col diavolo, dichiarato dal chitarrista blues Robert Johnson, proseguirà nella giornata di domani, 14 dicembre. La seconda edizione di un appuntamento preparato da giovani docenti fa giungere nella nostra città tanti studiosi autorioli, ma soprattutto raccoglie grandissimo interesse da parte di giovani studiosi, di studenti delle nostre università. Quindi una grande partecipazione che dimostra che si tratta ovviamente di un terreno di esplorazione dal punto di vista filosofico, estetico, etico, artistico, inesauribile, di grande interesse. La dimensione del sacro, la dimensione della contingenza, la dimensione della libertà, la dimensione del conflitto tra verità ed errore che inquietano, in particolare in un'epoca come la nostra, e che però non possono in nessun modo non spingerci se non al massimo sforzo di tensione della nostra intelligenza, del nostro sentire, del nostro comprendere. Lui che ci è guagliato per ragione e che solo la forza ha reso Signore sopra i Suoi cuori. Grazie.